Erano migliaia gli utenti iscritti ai canali Telegram che offrivano, con garanzia assoluta di anonimato, Green Pass falsi da pagare in criptovaluta o boni acquisto di piattaforme per lo shopping online, ad un prezzo compreso tra i 50 e i 500 euro. Lo hanno accertato gli investigatori della Polizia Postale impegnati nell'operazione Falsi Pass. Denunciate per reati di truffa e falso quattro persone, tra cui due minori, gestori dei canali sequestrati specializzati nell'offerta illegale di certificati. Grazie a tutti.